di tutte queste costituzioni nella lingua portoghese, quindi sarà lui il primo ad uscire dalla Nigeria e lavorare in un'altra parte della colonizzazione, cioè fare il following. C'è una proposta da parte del superiore e lui è stato il primo a dire sì, e spero che nel futuro anche gli altri possano andare in altra parte della seconda direzione.